Mi piace parlare di mondo musica, questo è il secondo anno che vengo qui a Cremona per altre ragioni, è un piacere poter constatare un universo dedicato alla musica in generale, quindi vedere tutti questi giovani che provano i vari pianoforti per scoprire una dimensione che per certi versi risulta ancora essere misteriosa dal punto di vista artistico, veramente bello, ho visto molti miei allievi di cui non sapevo neanche che fossero qui oggi presenti a questa manifestazione, sarebbe il caso io credo che manifestazioni come queste si potessero in qualche modo anche allargare nel territorio nazionale, sono momenti di grande riferimento non solo per i giovani ma anche per i musicisti.